La comunità di Quagliano è lutto per la tragica scomparsa di Francesco Palmieri, giovane calciatore di 29 anni della SD Rangers Quagliano 1998. Il ragazzo è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì 28 agosto mentre era alla guida del suo scooter. Lo scontro frontale con un tiro avvenuto su via Ripuaria nella località Varcatura ha causato ferite fatali al giovane atleta, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi del 118. Non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l'intera comunità di Quagliano e le aree limitrofe, compresa la zona nord di Napoli dove Francesco era conosciuto e amato. Chiamato affettuosamente ciccio dagli amici era molto apprezzato per la sua passione per il calcio e per le sue doti umane. Numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia Palmieri, distrutta dalla perdita. Anche la SD Rangers Quagliano 1998 ha espresso il proprio dolore attraverso un post sui social, ricordando Francesco come un ragazzo d'oro sempre pronto ad aiutare il prossimo. La dirigenza, lo staff tecnico e i compagni di squadra si stringono attorno alla famiglia Palmieri, uniti nel dolore per la perdita di un amico e compagno insostituibile. Grazie per la visione!